Salve! Adesso anche te ti spogliato i cilindri Sky! Sky in campo! Valentino, gioca alla fine? Pensate si, si gioca! Purtroppo si All'ultima minuta Devo andare in grado Catori è il bomber È una coppa nascenza Bomber, non è più bomber Ora non sono più bomber Ci sono altri bomber Di solito vanno scusa Ci sono altri bomber E' in bocca al lupo E' in bocca al lupo Eccoci, lo spogliatore del Milan Prima del big match vanno scusa Molta concentrazione dei giocatori Chi per allentare la tensione Fa dei passaggi Come Brandi e Roiacono Angelone che si va a fare un passaggio C'è il preparatore Atletico Milelli Cavassi Bomber, gli amullo Per portiere Manna Che si accinge ad indossare la maglietta Con la cola affronterà questo grande match In bocca al lupo al Milan Che che è giungo Per portiere Manna Per portiere Manna Per portiere Manna Grazie a tutti. 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 Vittoria importantissima che permette al Milan quindi di mantenere il primato. Ottima la prestazione da entrambe le squadre, una bella partita, molto fisica. Quali sono le considerazioni? È stata una partita con due facce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.